Che cosa vuole? Vuole chiedere un rinvio? No, vostro pure. Lei è avvocato. Sono stato appena ammesso all'ordine degli avvocati. Ha un gran bel fegato a presentarsi nella mia aula senza un'abilitazione. Ora sparisca, si prende l'abilitazione e poi si riaffeggia. Tu prendi il caso, trovi la vittima, la fai firmare per lo studio legale J. Lyman Stone. Metti insieme la cosa. Cioè dovrei sollecitare l'agente. Ce l'ha l'avvocato? No. Il mio studio tratta incidenti d'auto più di chiunque altro a Memphis. Le compagnie di assicurazione sono terrorizzate da noi e non chiediamo un soldo. Cosa ti hanno insegnato a legge? Beh, certamente non a rincorrere le ambulanze. Para la svelta o morirei di farlo. Presento la Great Benefit. Rincresce di trovarmi qui in queste circostanze. Non sarebbe qui se il suo cliente avesse fatto quello che doveva. A base alla politica della compagnia a quel tempo le ho spedito una lettera di rifiuto. E la maggior parte lascia perdere. Benvenuto alla guerra. Hai paura? Sì. Non posso fare a meno di pensare che mentre tutti noi ci affanniamo a soprufare gli altri, come se la morte non ci riguardasse, questo ragazzo lo guarda dritto in faccia. Non riesco neanche a immaginare il coraggio che ci vuole. Non c'è niente di più eccitante che inchiodare una compagnia di assicurazione.